Con noi, Marino resta con noi. Ci aspettiamo per un grande applauso da Ignazio. È ovviamente una provocazione, però la situazione è così. Roma affoga... Meglio con Marino che sei. Oddio, meglio con Marino comunque no, però Roma affoga nel degrado, Roma vive una situazione inverosimile, non tanto per gli scontrini e le cene che magari Marino ha rubacchiato, ma perché veramente siamo ormai a una condizione di sostenibilità totale. Da New York Times, da tutto quanto il resto del mondo ride della nostra città, viviamo una condizione di degrado totale e dobbiamo dare la parola al popolo romano il più presto possibile. Casa Pound è pronta, insieme a Sovranità e se vorrà anche a Matteo Salvini.